Ciao! Grazie ai nostri video risparmi già molti soldi ogni anno. Risparmia anche sulle parti di ricambio della tua auto. Comprali sull'app Mister Auto. La spedizione è gratuita! Spegni l'auto e tira il freno a mano. Per far durare di più le lampadine, ti consigliamo di non toccare mai il vetro con le dita o se lo fai, di pulirlo bene con carta assorbente prima di rimetterla a posto. Tira la leva di apertura del cofano e aprilo. Per sostituire le lampadine degli anabbaglianti H7, ruota la ghiera di bloccaggio di plastica in senso anti-orario. Poi, rimuovi il tutto. Rimuovi la lampadina. Quando rimonti la lampadina, devi stare attento al suo senso. Trova i connettori a prova di errore. Posiziona la lampadina nel suo alloggio. Rimetti il tutto nel blocco del faro. Spingici sopra e ruota la ghiera in senso orario. Per sostituire gli abbaglianti, ripeti l'operazione degli anabbaglianti. I passaggi sono gli stessi. La lampadina delle luci di posizione si trova giusto sopra gli abbaglianti. Per rimuoverla, ruota in senso anti-orario di un quarto di giro. Per estrarre la lampadina, basta tirarla. Per rimontarla, ripeti l'operazione in ordine inverso. Per sostituire la lampadina dei lampeggianti, bisogna rimuovere il blocco dei lampeggianti stessi. Afferra il supporto della lampadina e ruotala in senso orario. Il tutto dovrebbe uscire molto facilmente. Per togliere la lampadina, spingila e gira di un quarto di giro. Per rimontarla, ripeti l'operazione in ordine inverso. Rimonta il blocco dei lampeggianti. Ciao! Se questo video ti è stato utile, like e suscriviti al canale. E verifica che le linguette di sostegno del faro siano bene inserite nei loro alloggi. Operazione conclusa.